Cosa state dicendo voi due? Mi son preso un nervo che male! E' la prima volta che non parlià! Si vede da qui, si è visto! Ma sai che è Sabrina poverina? Però mi son fatto male veramente! Ah il piede che male! Sono buoni i miei piedi? Io lo met... Dai un attimo! Non te ci sta il suo allucetto? No che schifo dai! No 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 no! Nero devi leccare! Nero devi leccare! Nero devi leccare! E' la stessa cosa che... Andre vuoi girare? Vuoi girare quella sedia? Mi da fastidio! Giro la sedia! Non siamo simmetrici! Beggio! Sicuramente è meglio! Dai Andre girati un attimo! Ha detto che sicuramente è meglio! Adesso starò così! Dai Andre ti prego! Non c'è la... cosa è la schiena? Dai che la prima... E' proprio per te la prima domanda! Ma hai già iniziato a registrare? Da circa 20 minuti! Così ti va bene? No allora raga devo uscire domani questo video! Non dite cose che devo censurare perché non ho tempo di editare! Secondo me con questo diametro ti diverto! Che buono! E' il diametro perfetto per me! Dai! Rivertiti! No allora... Devi raccontare il video... Il mio cansello! E' un'arma! E' un'arma! Lasciamola stare! Ma sono messo un'ora fa! Sono una caramella? Esatto! Dai Andre... Ma non è il mio video! Fa caldo qua! Cosa vuoi da me? E' mezzo! E' il pre-intro! Tu non è un pre-intro? Ho appena mangiato! Ho appena mangiato! E' un po' fruzzato come io! E' il mio ribante invece! Yeee! Si sta molto bene! Praticamente siamo su questo o quello! Sono due preferenze che dovremmo... Non ha senso! Cosa hai fatto? Ma che bombe c'hai! Basta! Una quarta! Dobbiamo... Vediamo... Do... Dicevamo questo o quello? Esatto! Questo o quello? Dobbiamo scegliere una delle due opzioni che il gioco ci dà... Spero... Quello non è un laser! Mmm... E' una semplice lampadina! L'impressione è che non giocheremo a questo o quello stasera! Non puoi capire! I'm about for two of us mosey through town... ...so we can spot the trouble! Quanto parla! Mi intrude l'orecchio! Basta! Basta! Devo fare il tuo... Andiamo a fare il video! Non finiamo più! Esci domani! Esatto! Allora! Allora! La tua ancora mi ha bloccato! Basta! Non finiamo più! Quello è mio! Ssh! Ma è vero! Allora! Cazzo mi tocchi le palle! Vieni avanti! Oh! Mi tocca le palle questo! Vieni avanti! Guarda che sei sfasato! Dai! Vieni nervoso! E' il più super mega capene! Selvaggio West è la sua mandria! Fa caldo però! Vieni avanti! Fa caldo! Fa quasi freddo! Allora! Eh sei lucido! La prima... La prima! La prima... La prima! La prima! La prima! La prima! Le prima! Maniare salato per una settimana! Oppure! Mangiare dolce. per una settimana. Bli, mangiare dolce per una settimana così Andre muore di diabete e fa puuuuff. Salame. Io preferisco il salato per una settimana. No, dolce dolce. Stomaca. Cioè, dopo un po' ti rompe il dolce, infatti. Stomaca. Io vado di semi magici. Fagioli, non semi. Vota salato, salato. Almeno 70% salato. 71? Che c***o. Dai, ho sentito il sushi che ho detto. Sono troppo forte. Che schifo. Prossima domanda. Essere molto popolare su Instagram. Non c'è paragone. Molto meglio Instagram. Instagram. Non tocchiamo quel tasso che non vorrei che Pietro Poverino su Instagram. È rimasto un po' indietro. Ho 100.000 ragioni per ditelo. Fare il sesso con chi vuoi ma non provare sentimenti e fare il sesso con una persona ma essere innamorato. Ovviamente la blu. Sa prima la prima, sicuramente. Ma cosa, la blu? Sì, sì. No, l'ha fatta per 20 anni la prima, fallicello la seconda. 20 anni? Vai anche con la 30? No, la blu, la blu. Blu. Blu, sì. È che sono un po' mentoni. Andre. Quindi blu? Blu. 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 Non sono molto convinto. Devi fare blu. Premi su blu. Blu. Devi fare blu. 76. Avremmo risposto tutti blu. Basta, Andre. Lasciare il tuo ragazzo o ragazza per uno sport, rimanere assolutamente al tuo ragazzo e rinunciare al tuo sport preferito. Dipende, la ragazza sa cucinare. Mi sembra una banalità. Blu, blu, blu. Vabbè, sì. Quanto redditizio è lo sport. Con i soldi sai quante ragazze puoi comprare. Andre. Allora, dobbiamo essere obiettivi. Che tu stai dicendo solo quello che faccio. per fare il video. Esatto, quindi blu. Perché lei, cioè, ha... Sai perché? Per il calcio. Per Andre. Dici? Sì. Sì. Pezzi di merda. Prossima. Non si dice merda, si dice pupù. Dire sempre la verità o mentire sempre? Ma è che questo, quello hai preso, scusami. Sono un po' di merda. Andre, no, dai! Che stronzo. Che bastardi. Uh, figo. Preferiresti poter teletrasportarti o leggere normalmente le persone. Per me, cioè, proprio, fisso il teletrasporto. Anche secondo. Perché leggerla la mente delle persone sarebbe troppo caotico. Però... Leggerla nella mente delle persone? Sì, così... Qual è il tuo codice? La tua pasta per il conto? Indovina cosa sto pensando? No, sì, te, fiori, camu, guangi. Era sei un ciccione. Non è vero. Uh, sì. Non è vero. Sì, l'ho detto anch'io. Sì, sì, teletrasportiamoci ad andare a leggere la mente. Basta. 46%. Non ci credo. Avrei vinto. Non ci credo. Avrei vinto. Ma non c'è un vincente, è un perdente. Va a vincere. E perché noi ci distinguiamo dalla massa? No, raga. Leggete. Che cazzo le domande? Essere ucciso dal tuo ragazzo o dal tuo ragazzo o dal tuo amico? Vuoi uccidermi? Fai prossima. No! Bella questa! Preferiresti essere scemo ma molto attraente o essere intelligente ma di normale bellezza. Povero Ander, lui è scemo. Non è neanche attraente. Non lo dicono troppo perché sono scemo. Che stupidotto mi dicono. Perché mi guardi? Perché tu sei l'altra casa. Non c'è la terza che hai due insieme, è vero? Intendiamo intelligente. Blu, blu, blu! Tu preferiresti non sentire il freddo e non poter morire ibernato? No, no, no. Adesso faccio io, adesso faccio io. Porca... Adesso ti vedrò una cazzo di freddo. Faccio una cazzo di freddo. No, non mi metti. Dai, poverino. Capitana. Così impari. Per me perdi Ander. Guarda, si vede? Si vede, si. Stiamo giocando. Così impara. Per me perdi. Per me perdi. Se riesci a vincere l'altro FK. Perché l'altro non sta giocando? Guarda quanto sta bruciando. Ma stai anche vincendo, Pietro. E' così. E' così. Ma no, veramente è scarsissimo. Pietro se vinci questa partita mi faccio suora. Ah, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto. Niente è suora. Ciao ciao ciao. Stavo vincendo, eh. No, Pietro. Ha vinto quasi all'ultimo. Io questa non l'ho capita. Non sentire il freddo e non poter... Ah, no. Tutta la vita. Io quello ti dico sempre. Non sentire un'altra. Mi piacerebbe non sentire il freddo. Non ho neanche detto. Tu preferiresti. Non sentire il freddo e non poter morire ibernato. Non sentire il caldo e non poter... Potresti non soffrire il freddo o non soffrire il caldo? Il caldo. Il caldo. Il freddo ti vesti. Il freddo ti vesti. Ma il freddo fa schifo. Ma sai che è figo? Noi persone grasse, ad una certa, più di un tot, non riesci a levare. Perché tu noi persone grasse? Ti spalmi il burro. Io e pazzo. Ah, ok. No, ma sai che è figo? Tipo vado a fare due bracciate nella lava. Freddo. Ma sai che è figo? Vedi? Guarda, 62% avremmo vinto. Perché puzzano. Ma non è vero. Essere Naruto o essere Goku? Goku. È essere Goku. È essere Goku. UCCIDATIIXP Spè, lascia, spettacacacacacacca. Naruto mangia il ramen, però. Ah ah beh, allora... Cioè, non ne ho fatto. Fai la Gankidama. Vai, finisci pure. Fai la Gankidama, sai caricare il tuo video, dai. Uccidere te stesso o uccidere il tuo migliore amico? Prossima. No, 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 no. Prossima. Ti faceva male il collo, ma... Dai! I pokémon supereroi, i pokémon, viva le pokémon, tosti e brorompenti, tutti differenti, gare, caccia e mol, caccia, 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 caccia La gente ha detto supereroi perché sono tutti grandi invece a pokémon, grandi, 3574 Anche perché, tipo, ammetti che esistono supereroi e poi tu non hai superpoteri, ci rimandi merda Esatto Quindi i pokémon, tutti i pokémon Guardati i miei peli Preferiresti essere come sei o avere dieci milioni Oh, cento milioni, sape che dieci Cento milioni, ah, ho letto con dieci per cento di possibilità di muovere l'istante Guardate, dieci per cento di muovere l'istante Io la farei, cioè, non è piccolistica, è comunque dieci per cento di muovere l'istante Una possibilità su dieci Per cento milioni, non sei felice nella tua vita? No Sai se avessi cento milioni, proverebbero i ladri a rubarti tutto il giorno, avresti amicizie finte che lo farebbero solo per i tuoi soldi? Essere come sei? No Essere, sì No, blu tutta la vita Essere come sei Quella parla così perché ce l'ha già cento milioni, normale, è facile così Essere come sei, 67 per cento di muovere l'istante Perché sono le risposte, sono le risposte moraliste Quante persone, quante bugiardi che sono qui dentro È tanto di ci piacere di risparmi a morire però No, è pochissimo Minchia Andrea, è uno su dieci, eh Cioè, se tu fai un'operazione in ospedale Per in dieci persone, una muore Eh, se tu fai tipo all'ospedale Basta che da fuori lo facciamo in nove, scegliamo e basta, è fatto Apri, prossima Vabbè, prossima, va Essere tradito o tradire? Prossima Prossima Beh, scusa, io non avendo avuto la rossa, cioè con la blu Essere un bianco in mezzo dei neri e essere un nero in mezzo dei bianchi Nero in mezzo dei bianchi Essere un bianco in mezzo dei neri, eh Essere un bianco in mezzo dei neri, eh E allora Essere un bianco in mezzo dei neri Eh, un bianco in mezzo dei neri, eh Dovremmeno cercare Passare sette anni in prigione Prossima Mazza, ma sei la seconda, quanto mangi qua? Stare sempre al... Vabbè che domanda Caldo, caldo, caldo Metti caldo però Tu vorresti del tempo all'estate o del tempo all'inverno? Inverno? Tu hai dei problemi Ma non è vero, è così bello l'inverno? Fa schifo Ma vabbè Ed è buio L'ultima Ok, riuscire a mentire sempre senza farsi scoprire Oppure sapere sempre quando gli altri mentono Blu Blu perchè lo dice il mio cappello Blu, 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 blu Tanto la gente mente sempre Sabri quanti anni hai? Sette Questo? Pietro sei etero? Sì Hai visto? Stiamo in tempo E con questo il video è finito Vediamo il video Io ringrazio Sabri e Andrea per la partecipazione E devi lettarmi per oggi Mi metto prima Sabri Perchè l'amica Alfa Che schifo anche lei E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video Ciao Ciao Vedi che dice nuovo video? Vedi che dice nuovo video? Un nuovo video con cui sarà il mondo Porca puttana Ciao 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 Ciao